Tutto pronto per il Carnevale Sarnese, il calendario ricco di appuntamenti oggi al suo evento di punta con la parata di carri, maschere e coreografie. Tra le strade, le piazze, i colori e i coriandoli sono migliaia di persone che si attendono ad affollare la città ed è l'occasione anche per rilanciare una nuova idea di festa del Carnevale, considerare un evento più globale ed aggregante e ritorna infatti l'idea del Carnevale dell'anno. Una meravigliosa festa, mi ricordo sempre da bambino, c'era mio padre che ci faceva sempre le fotografie quando organizzavamo le feste a casa, io sono quella generazione che ballavamo il ballo della mattonella, il gioco della spazzola e ci divertivamo a stare, la bellezza di condividere tanti momenti felici con tutti gli amichetti e le amichette. Il Carnevale, sono ormai 15 anni che diamo nostro come studio anche piccolo contributo rispetto a quelli che sono gli impegni tecnici di un tecnico che deve supportare le associazioni. Lo facciamo sempre fatto con grande sostegno, con grande amore e con grande rispetto, augurandoci di ragionare sempre per portare avanti il Carnevale. Anzi la butto lì anche con gli amici di Nocera a cui ho il piacere di collaborare, creare sempre maggiore aggregazione anche in quel campo. Quindi il Carnevale dell'Agro potrebbe essere un'altra eda da inserire nel nostro programma elettorale. Grazie a tutti.